Per capire il movimento tecnico e anche la scelta che ogni atleta o comunque qualcuno che si approccia a un'attività fisica fa nello scegliere la camminata o la corsa. Inoltre abbiamo pensato che una delle cose più semplici, perché camminare o correre non c'è bisogno di chissà quale abbigliamento né chissà quale attrezzatura, però una cosa è importantissima, la calzatura, cioè la scappa, la scappa giusta per camminare o correre. Pertanto questa sera abbiamo il nostro amico Emanuele Mascaro, che è il nostro istruttore di posturale, e abbiamo il istruttore Franco Ruotolo che ci parlerà appunto della calzatura che dobbiamo scegliere. Io prima di iniziare in qualche modo la conferenza volevo soltanto attenzionarvi ad un avvenimento di questi giorni, ne approfitto di questa conferenza.